bene amici sarà un video flash quello del moto g4 in versione plus plus chiamatela come volete perché è praticamente un moto g4 con aggiunto in maniera veramente brutta goffa antiestetica il sensore di impronte digitali cambia anche un'altra cosa non è l'hardware ma nella confezione perché abbiamo anche il carica batterie rapido uscita 5 9 12 volt è quasi devo dire che fa la differenza perché si carica veramente molto più velocemente ma lo accendo subito lo sblocco il telefono gira bene va bene non ha problemi il display full hd da 5 pollice e mezzo il processore snapdragon 617 rimane il doppio slot per la sim più la micro sd a espandere i 16 gb di memoria disposizione 2 gb di memoria ram ma sì c'è un ma ovvero moto display allora voi sapete che io sono un fan di motorola di moto display ma vi faccio vedere una cosa mi sto inviando adesso un vecchio caro sms vediamo appena arriva e vi faccio vedere la differenza di avere un sensore di impronte digitali perde senso moto display perché vedete si accende clicco posso vedere il messaggio ma non posso interagirci ovvero posso solo chiudere la notifica perché per andare a leggere interagire devo schiacciare sotto il pulsante per lo sblocco che è fulminio e guardate guarda in quanto tempo si sblocca veramente una frazione secondo però poi devo abbassare la notifica e andare a rispondere al messaggio o comunque fare altro altra cosa che non è piaciuta il fatto che questo non è un pulsante home ma non fa praticamente nulla vedete se io entro nel solito gestore delle pagine dove c'è vedere come gira ma gira assolutamente come il moto g4 per tornare alla home devo cliccare ovviamente questo pulsante tondo se clicco qua non succede assolutamente niente vedete e non è neanche cliccabile quindi è anche un po uno spreco di spazio oltre che essere un pugno in un occhio per quanto riguarda la parte audio non so probabilmente è l'unità che ho io perché sul moto g4 l'audio era buono quando sento un filino gracchiante ma ripeto un filino gracchiante il telefono è diventato padelloso un po grande però bella la cover posteriore con questo touch in fil quasi vellutato ma ma lui costa 299 euro quindi non più un moto g di una volta che aveva nel rapporto qualità prezzo l'arma vincente ma ormai un telefono un telefono che va bene ma come tanti altri un saluto da andrea galeazzi punto com